PIXMA MX850 PIXMA MX850 è una stampante multifunzione 4 in 1 ad alte prestazioni. Garantisce eccellenti stampe di foto e documenti, copie, scansioni e rapidi fax. PIXMA MX850 è dotata di un sistema single ink con 5 serbatoi di incosso sostituibili separatamente, per ridurre gli sprechi e aumentare il risparmio. PIXMA MX850 Quickstart consente di utilizzare tutte le funzioni quasi istantaneamente. Stampa documenti fino a 31 pagine al minuto in monocromia o 24 pagine al minuto a colori. MX850 è dotata di alimentatore automatico di documenti da 35 pagine, funzione fronte rete automatica e due vassoi carta, tutto per consentirti di stampare presentazioni, rapporti e foto di alta qualità. Il Fax Super G3 integrato consente di trasmettere una pagina in soli 3 secondi e dispone di una memoria di 250 pagine per i fax in entrata. Invia la scansione direttamente al PC, via e-mail o in formato PDF, con il software OCR che converte il testo stampato in documenti elettronici modificabili. Stampa direttamente dalle schede di memoria usando l'ampio display TFT e sfrutta le molteplici opzioni di miglioramento della stampa e della copiatura. Integrando MX850 nelle reti Ethernet, tutti gli utenti collegati possono condividerne le funzioni, a casa e in ufficio. Ciò rende la stampante perfetta per l'uso sia professionale che domestico. Grazie a tutti!